Gentili telespettatori, buona giornata. Come si fa a richiedere il bonus vacanze 2022? Ci sono dei nuovi requisiti. Voi direte, ma non sapevo neanche che c'era un bonus vacanze. Eh sì. Non più a tutte le famiglie con Isee entro i 40.000 euro, ma solo a tre specifiche categorie di persone potranno ricevere il bonus vacanze. Famiglie di pensionati, famiglie con figli a carico con disabilità, nonché studentesse e studenti, figli dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione, delle scuole medie e scuole superiori. Allora è stato indirizzato il bonus vacanze 2022, voluto dal governo Draghi, che ha parzialmente modificato il sussidio da 500 euro stabilito dall'esecutivo precedente guidato da Giuseppe Draghi, non Giuseppe Draghi, ma Giuseppe Conte. Le novità hanno riguardato quindi la restrizione del range di beneficiari che possono, il range, perché noi se ne scriviamo in il range sarebbe la forbice dei beneficiari che possono usufruire, ma anche le modalità di ottenimento del bonus. Gli individui che hanno avuto diritto ad accedere al sostegno, infatti, hanno potuto farlo solamente prendendo parte a precisi bandi pubblicati sul sito dell'Inps. Hotel, resort, campeggi e ulteriori alloggi estivi sono solo alcuni dei luoghi nei quali i soldi del bonus vacanze 2022 possono essere spesi. Per accogliere una maggiore affluenza anche altre strutture turistiche hanno aderito all'iniziativa del governo, voluta per combattere la crisi del turismo che ha caratterizzato il segno della pandemia. Tra queste figurano campus universitari, villaggi turistici, residence, pensioni, bed and breakfast, agriturismo, ostelli. Quindi con il bed and breakfast potete comunque vedere da vicino anche come le coltivazioni dirette, un po' le tecniche della pastorizia. Onde evitare equivoci, l'istituto di previdenza raccomanda comunque di contattare gli edifici scelti per trascorrere i propri giorni di relax, anche solo per verificare le eventuali disponibilità e conoscere nel dettaglio le modalità di utilizzo del bonus. I bandi sono scaduti nel mese di aprile e solo coloro che hanno fatto domanda tramite il sito Inps possono ottenere l'agevolazione. Io credo che siano molto pochi quelli che fino ad aprile con un ISEE fino a 40.000 sono andati a chiedere questo bonus. Sono quelle cose che fa il governo, io ti faccio il bonus, però poi è talmente complicato, la gente non sa né che cosa deve fare perché ad aprile se voi volevate fare, prima di tutto dovevate conoscere che esisteva questo bonus, dovevate sapere a chi era indirizzato, dovevate capire come si faceva domanda, entro che insomma sono quelle cose abbastanza complicate che realmente credo che pochi abbiano usufruito di questo. Sono quei bonus dove ci stanziamo questi tot milioni e alla fine rimangono quasi intatti, quindi sono delle cose che i governi fanno come come spot. E poi volevo raccontarvi la Meloni dice il centrodestra un pericolo e lei risponde in tre parole, non usa giri di te e di parole appunto. Fratelli d'Italia in un'intervista alla leader a Panorama manda un messaggio molto chiaro a chi cerca di demonizzare il centrodestra, soprattutto dalle parti di Bruxelles in vista del voto. Dice la cozzaglia di Letta, così come la sinistra europea, è piena di gente che strizza da tempo l'occhio a Russia, Cina, Venezuela, Cuba. Che si faccia passare il centrodestra italiano come una minaccia per l'Occidente è assolutamente ridicolo. Parole chiare che spiegano bene quanto si alta l'attenzione di Fratelli d'Italia per rivendicare il ruolo del centrodestra chiaramente posizionato sul fronte europeista e atlantico. Quando si dice atlantico si parla di aderenza alla Nato. Poi la Meloni ha affrontato anche il tema dell'immigrazione puntando il dito contro i ministri degli interni, del ministro degli interni Luciana Lamorgese. Dice la gestione del ministro Lamorgese è stata disastrosa, i numeri sono impietosi. Sento dire dalla sinistra che non si può fare campagna elettorale agitando spettri come l'immigrazione a cui nessuno crede più. Noi non agitiamo spettri ma partiamo dai fatti. l'immigrazione è fuori controllo. Però parlare di immigrazione non è corretto. Bisogna dire immigrazione clandestina perché l'immigrazione è quella normale, non è fuori controllo ed è un fenomeno normalissimo che va benissimo anche in un paese come il nostro che si sta spopolando. Quindi attenzione che abbreviare sia... ma al posto che dire immigrazione clandestina è che è troppo lungo dico solo immigrazione. Eh no! L'immigrazione regolare è una cosa, l'immigrazione clandestina è un'altra, non si possono accomunare le due cose perché uno che non sa niente legge un giornale e dice l'immigrazione è fuori controllo. Ah vogliono limitare l'immigrazione. No! Si parla di immigrazione clandestina cioè chi entra in Italia senza documenti ed entra di nascosto tramite il mare o tramite i confini aperti. Ecco, bisogna anche specificare, io consiglierei ai giornali anche di specificare, ecco, una parola in più di quello che si sta parlando. Ma la Meloni dice l'immigrazione è fuori controllo grazie a non politiche scellerate che hanno fatto dell'Italia il campo profughi di Europa. Poi parla anche della squadra di governo, dice, siamo pronti, come recita anche il nostro slogan elettorale il nostro governo sarà un governo politico legittimato dal voto popolare e porrà fine alla lunga stagione dei tecnici e dei premier che nessun italiano aveva mai votato. Questo ovviamente non ci impedirà di avvalerci, se necessario, di competenze che non vengano dalla politica di partiti. Infine sul fronte internazionale parla della visita di Nancy Pelosi a Taiwan, dice noi vogliamo un'Italia saldamente nella Nato ma questo non ci impedisce di lavorare per un'alleanza più equilibrata che sia protagonista di pace, sicurezza e stabilità mondiale che tenga a bada certi avventurismi tipici dei democratici americani. Noi fummo i primi a evidenziare proprio questo aspetto. Ma, dice, l'iniziativa di Nancy Pelosi rischia di dare alibi a Pechino, vedo tanti dubbi anche in ambienti americani. Grazie a tutti e arrivederci a presto.